Ciao ragazzi, mi è M20107 e oggi stiamo a fare esperimenti. La parte 1 si sta caricando, perciò questa è la parte 2. E prima avevo mischiato il solfato di rame, che è questo, più il carboidrato, sodio carbonato, monoidrato. Ed è questa quella che è uscita. Non ho potuto fare il video perché quel video si è cancellato da solo. Non l'ho fatto apposta, si è cancellato da solo. E quello che abbiamo fatto nell'episodio 1 è, tipo, abbiamo messo una graffetta dentro questo qua. Ed questo dopo sembrerà arrugginito, ma non lo sarà perché... perché avverrà una reazione chimica. Quindi mettiamo questo. Oggi... Adesso passiamo a questo. Adesso passiamo a questo. Mettila. Ora dobbiamo fare il continuo dell'esperimento che non sono riuscito a postare. Quello là del sodio e del rame. Sì, mi scaccolo le dita, lo so. Ok, ora dovrò versare lentamente questo qua dentro e verrà fuori il carbonato di rame. Ok, piano, piano, proviamoci. Piano, piano. Ragazzi, non l'ho ancora messo tutto. Ok, raga. Abbiamo fatto. Ok. Ragazzi, dovrebbe diventare verde. Quello che abbiamo appena fatto dovrebbe diventare verde. Ecco come è uscito, ragazzi. È uscito così, ma non è ancora abbastanza. Proviamo un attimo con la paletta. No, no, lascia. Si deve asciugare. Si deve ancora asciugare. Sì, si deve ancora asciugare. Guardate il mio dito. Quindi dovrebbe ancora asciugare. Ragazzi, ora dovremmo aspettare finché queste pistole, questo, c'è ancora una carta, questo non diventa verde. E guardate che l'altro si sta già per fare, ma ve lo mostrerò nel prossimo episodio, perché non ve l'ho potuto mostrare in quello precedente. Non ve lo mostro in questo, perché non è ancora pronto. Perciò ve lo mostro domani che farò un altro video su questo, o ve lo mostro quando ne farò altri. Comunque, questo si chiama Chimica Facile Facile. Per chi non ha visto il primo episodio, ora riassumo tutto. Abbiamo preso una graffetta con un filo di cotone e l'abbiamo messo dentro una provetta. E qui dentro. Ed in questa provetta ce l'abbiamo fatto rimanere. Ora dobbiamo aspettare, cioè in questa provetta, poi ci abbiamo messo, ora leggo un attimo da qua perché non mi ricordo, erano cinque minuti fa, non mi ricordo cinque minuti fa quanto sta diventando. Abbiamo messo questa graffetta all'interno, abbiamo... abbiamo messo del rame. Abbiamo messo il tappo, abbiamo mescolato. Poi abbiamo messo questo dentro qui e ora dovrebbe fare. intanto noi aspettiamo. Abbiamo messo... E qui vicino c'è una stufa, vedete? Ci ho messo... Oh, già inizia a farsi un poco verde, poi un pochissimo, eh. Non lo riuscite a vedere perché non siete vicini, ma un poco sta avvicinando tanto al verde, eh. Ma si avvicina tanto, tanto. Aspettate. Ok ragazzi, questo e questo lo dovremo tenere fuori perché se devono fare la reazione devono stare alla luce, perciò... Ok, sì, qui sta la... Però devono stare a riposarsi per un po' di tempo. Ma questo è quasi pronto, Brian. Questo è quasi pronto, possiamo iniziare anche a guardare. Aspetta. Tra un po'. E... Questo dovrà essere pronto domani, perciò quest'oggi guarderemo il primo esperimento, domani guarderemo il secondo. Dopo domani, sempre se farò video, guarderemo il terzo, quindi farò così. Il primo non guarderò nulla, il secondo guarderò il primo, terzo, secondo, quarto, terzo, quindi farò sempre così. Questo lo inizio a mettere sulla stufa, poi dopo lo vado a mettere fuori, non vi preoccupate. E questo credo che sia pronto. Papà, secondo te è pronto? Allora, vi dico quello che potrebbe uscire. Comunque ci sono due di questi utilissimi, perché ci aiutano a fare tutte queste cose. Papà, non ho messo questo a posto? No, poi lo mettiamo a posto. Perché? Perché, papà? Ah, vero, dobbiamo continuare questo? E questo è il gioco. Questo lo trovate in indicola, è piccolo genio, non dovete essere di sotto 8-12 anni, perché se siete sotto 8-12 anni, non potete. Io, vabbè, ho 8 anni, precisi, precisi, ci riesco a farli. E ragazzi, aspettiamo che questo sia pronto. E nel mentre... Non saprei. Cioè, ragazzi, sembra che guardate, si sia rotto tutto qua, sembra. Aspetta. La reazione chimica non ha funzionato, ti giuro non credo per la chimica. Ok, ragazzi, l'esperimento è pronto, abbiamo pulito tutto il tavolo nel mentre. Papà, cosa sono queste forbici? Ok, apriamo. Solo che non possiamo aprire qua, perché se cadrà tutta l'acqua, non posso farla cadere sul mio tavolo. Perciò, mi teletrasporterò in cucina. Non mi teletrasporto più, perché ho preso un fazzoletto e non è molto meglio. Ok, ragazzi, apriamo. 3, 2, 1, ok, abbiamo aperto. Sì, ok, è aperto. Ok, tiriamo fuori la graffetta. No. Papà, ti riesci a cuore la graffetta. Aspetta, vieni, ragazzi, venite da me in attimo. Guardate, Aspetta, guardate. È tutta fatta. È tutta... Se il cese è levato tutto il metallo, guardate. E questa era... È una simile, questo era il vero colore e questo è quello che gli è capitato dopo. No. Ragazzi, infatti questa è una malaterra. Sembra proprio arrugginita, sembra che sia andata via. Questo ora lo vado a mettere fuori. E domani... Facciamo. Guardiamo... Guardiamo... Sì, è diventata aperta. Sì, proviamo a restare un altro po' e vediamo domani come diventa pure questa. Allora, facciamo restare un altro po' anche questa. Voglio vedere come diventerà domani. Queste e queste si metteranno a riposo fino a domani. Vediamo come diventeranno. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate 40 like e ci vediamo poi nel prossimo video. Ciao, ciao.